Ehi Glaciurmai, ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Alien Breed Impact. Ci troviamo nell'astronave nemica. Dobbiamo cercare di andare verso l'ascensore di uscita per attivare il motore, da quanto ricordo. Sei libero? Ma non mi piace questo. Aspetta, eh. Visto? Ci sarà? Da sudare. Dove devo andare? Ah, qua c'è un altro terminale Intex. E noi salviamo qua, che è meglio. E compriamo un po' di roba. Allora, qual è l'ultimo salvataggio che abbiamo? Credo che è così tanto che non registravo gli Unbreed? Sì. Sì, decisamente era tantissimo che non registravo gli Unbreed ed è questo quello che dobbiamo sovrascrivere. E andiamo a coprire un po' di oggettuncoli, ammenicoli. Vai. Abbiamo finito le munizioni là, ma abbiamo finito anche i soldi. Quindi... Diciamo che ci sta. Se non ricordo male, nello scorso episodio abbiamo preso un sacco di medikit, quindi infatti ne abbiamo dodici piccoli. Dovremmo riuscire a cavallare. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo. Non posso girare il visuale, non mi piace per niente questo. Fribio, 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 fribio. Ok, allora, una parte le abbiamo tirate giù probabilmente. Se ne appare un'altra, ecco. Che è la stessa tipologia di attacchi. Prima spamma le larve. Poi è fare i melmosi che si espandono. Mi ha preso. Mi ha preso, fribio, 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 ci ha preso. Oh no. Ma come fate a pigliarmi con tutti? Scusate se sto parlando davvero poco ma... La situazione è molto scottante Ok quello dovrebbe essere andato, ne restano solo due più due Ho capito perchè mi aveva beccato sempre e perchè non usavo il testo giusto per correre lol Ok allora qua il trucco è di andare dove si spande più in fretta ok Brucia 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 ok Le parti fondamentali per l'attacco sono quando ti sputa le larve quindi in questo momento e quando finisce la parte di attacco finale Scusatemi un attimo ma... Rieccoci ciurma Muori 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 E adesso non è finita almeno non credo che sia finita perchè quelli erano solo 4 tentacolini Ne... Ne... Infatti... CVD Allora... Gli attacchi mi pare che siano gli stessi di prima solo che ovviamente molto più potenti Il comune del fatto che è centrale è che schivare gli attacchi è molto più facile della terza parte Perchè si gira semplicemente in tondo E quindi risulta molto più facile non farsi beccare Ma adesso ragazzi sto sudando Terribile sto boss fight è tosta Sì però se mi faccio sparare le larve in faccia vedai Anche in me Ok stiamo finendo i proiettili Ok stiamo finendo i proiettili E quindi Ok stiamo finendo i proiettili Ok stiamo finendo i proiettili Ok stiamo finendo i proiettili Allora lancia Ionita non mi ricordate che ci si usa la lancia Ionita masch forse però con il rimbalzo ci sta ma vorrei che prendesse danno solo in questa fase qua probabilmente si è meglio economizzare i colpi perché non ricordo più effettivamente se è vulnerabile solo in quella fase lava potrebbe essere quello il motivo per cui ancora non l'abbiamo abbattuta perché se vedete l'animazione cambia quando siamo qua per prendere il kit medico grande ho praticamente perciò la vita Sì Ascensore E ce ne andiamo Da vincitore Calcolo il punteggio Modalità storia in corso a tendere Colpi sparati 8000 in pratica Continua Salviamo su quella appena salvata Sì Rispondi Sì 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 Conrad Sì 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 E Sì 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 delle belle, di sicuro. Ciao a tutti allora e buona giornata.